Ah, benvenuti a tutti in questo nuovissimo video. E in questo nuovissimo video abbiamo un confronto tra due petardi. Ci abbiamo il Mephistomanna M15 da 0,15 grammi e il Mephistomanna M30 da 0,30 grammi. E oggi andremo a vedere qual è la differenza tra questi due petardi. Io non credo che ce ne sia molta perché il calzoccio di quello di 0,30 è un po' troppo fino, secondo me. Cominciamo subito ovviamente con il più scarso, cioè il Mephistomanna M15 da 0,15. Ecco voi, questo è il petardo, allontaniamoci. Ha fatto un bel botto. Insomma, questo, questo è quel che resta del petardo. Ora tocca invece al Mephistomanna M30, da 0,30 ovviamente. Cerchiamo di accenderlo. Ecco, ho fatto. Acceso e allontaniamoci. Madonna. E aveva letteralmente uno scoppio leggermente più potente dell'altro. Comunque ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate un bel like e iscrivetevi al canale. Ciao. 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 Grazie a tutti.